io credo che quello di Bernadeschi sia soprattutto un problema di testa in questo momento forse non ha la testa completamente concentrata completamente sul pezzo di quello che deve fare perché è un giocatore dalle potenzialità enormi non piccole, nei grandi ma enormi le fa intravedere ogni tanto come dice Sarri va un po' a corrente alternata ecco deve trovare un po' di stabilità e continuità e soprattutto io vorrei che trovasse un po' di calore dalla gente che lo fisca al secondo passaggio sbagliato non vorrei che ci fosse questa prevenzione nei confronti di questo ragazzo no, Bernadeschi non penso che sia un trequartista penso che Bernadeschi sia un giocatore che debba giocare necessariamente sull'esterno per sfruttare la velocità, per sfruttare la conduzione di palla e mettere un cross che può essere interessante l'ultimo passaggio invece guardando la porta fa un po' fatica a farlo perché non è così qualitativamente elevato poi l'anno scorso per me ha fatto un'ottima stagione anzi un'ottima prima parte di stagione dove meritava di giocare nella seconda parte è venuto un po' più fuori di bala ed ecco che si è preso la squadra sulle spalle quest'anno invece Bernadeschi non ha meriti ma si è ritrovato in una condizione in cui Douglas Costa e Ramsey che erano i due titolari sono stati fuori e Bernadeschi ha avuto la sua possibilità per quanto mi riguarda l'ha steccata alla grande posto che comunque ad un CR7 non si deve mai o non si dovrebbe mai rinunciare se gioca da CR7 quindi chapeau a Sarri che lo ha tolto sia con il Locomoto in Mosca che contro il Milan anche per questioni fisiche ci mancherebbe altro e questo è normalissimo beh io direi che mi piacerebbe molto vedere quei tre assieme Cristiano Ronaldo, Higuain e Paolo Di Bala con quei due che non devono andarsene tra l'altro non dimentichiamolo mai ecco questa è una domanda bizzarra e forse anche di difficile risoluzione perché secondo me siamo i Higuain dipendenti Higuain è l'unico attaccante che ha delle determinate caratteristiche nella rosa della Juve e poi c'è Cristiano Ronaldo che è Cristiano Ronaldo però l'abbiamo detto in questo momento non sta bene non so se fisicamente, non so se mentalmente ma questo non è il vero proprio Cristiano Ronaldo ma cosa fai? Non lo fai giocare? Certo che lo fai giocare e Paolo Di Bala sta molto bene è in forma, è in palla ci sono anche Douglas Costa, Bernadeschi, Ramsey ce ne sono tanti quindi non ci sarà un vero e proprio attacco titolare ci sarà sempre la rotazione a seconda dell'avversario a seconda dello stato di salute e lo stato fisico dei giocatori psicologico dei giocatori che dovranno essere bravi a farsi trovare pronti quando ne avranno l'opportunità tutte le partite sono difficili abbiamo visto che il Milan il Lecce il Genua il Bologna tutte squadre che in teoria la Juve dovrebbe mangiarsi hanno portato dei problemi e quindi sicuramente l'Atalanta che è una squadra anche più europea che in questo momento sta facendo molto bene che nelle ultime partite ha avuto una piccola flessione ed è questo dovuto alla serie ripetuta di partite che abbiano disputato noi l'Inter, il Napoli, la Roma, la Lazio tra Europa, campionato tutte le competizioni che ci sono state ovvio che l'Atalanta potrebbe metterci in difficoltà è ovvio che questa sosta farà bene a tutte e due per ricaricare un po' le pila assolutamente sì assolutamente sì perché l'Atalanta sappiamo tutti che squadra è non può più essere definita una sorpresa è una consolidata realtà che ha ancora addirittura delle chance di passare il turno in Champions nonostante l'avvio disastroso è una squadra che gioca a memoria a gran velocità e quindi la Juve dovrà stare attentissima perché poi è sempre difficile trovare subito il ritmo partita dopo la sosta Beh, questa è un po' la domanda che ci facciamo tutti da anni questo è il problema delle altre squadre la Juve vince lo scudetto perché parte con la media punti riesce a mantenere quella media punti magari un po' balla un po' diminuisce in concomitanza degli altri impegni però il Ventus comunque i punti li fa i tre punti li porta sempre a casa le altre fanno un po' più fatica quindi Conte dovrà essere bravo proprio in questo credo che lo stipendio a Conte venga riconosciuto per raggiungere questo obiettivo e credo proprio di sì che a Torrino verrà fischiato io non non lo fischierei mai perché non penso che sia normale fischiare un allenatore che per forza di cose ha accettato una proposta collaborativa differente dalla Juve dove comunque magari non aveva neanche avuto l'opportunità di tornare penso che sia stupido fischiarlo ma sappiamo bene che il tifo la tifoseria certe cose le fa lo stesso anche se possono apparire magari non proprio consoli rispondo subito alla seconda domanda assolutamente sì verrà fischiato me lo aspetto purché si tratti di comunque un comportamento che non vada oltre determinate situazioni i fischi ci stanno fanno parte dell'amore-odio perché Conte è la stessa cosa che è stato Sarri o più o meno più o meno diciamo Conte molto di più comunque più o meno si può identificare la stessa situazione di Sarri quando tornerà a Napoli saranno fischi di odio-amore quindi è normale sul fatto che Conte riesca a tenere questo passo fino a maggio io penso più sì che no conoscendo perfettamente Antonio Conte grazie di tutto alla prossima ciao Luca grazie Gianni un saluto a tutta la tua utenza a tutti i ragazzi che ci seguono ciao forza Juve grazie a tutti